Divertirsi in sicurezza, questo è il motto di Donato Di Camp, l'imprenditore titolare di supporto da Fossa Cesia, unico imprenditore a fare che cosa? A creare un'area covid free all'interno del proprio locale per mettere in tranquillità tutti i propri clienti. Qui la gente arriva e che percorso ha? Il percorso si controllano i green pass, se sono in possesso di green pass accedono o altrimenti sono sottoposti a un tampone che nell'arco di 5 minuti il risultato arriverà sul telefonino. Lei ha organizzato proprio una postazione vera e propria, come quelle che vediamo in giro per fare i tamponi. Sì, siamo in accordo con l'AS che ci ha dotato delle password per i portali, insomma stiamo facendo uno screening sulla costa per tutte le persone che lo vogliono, di poter verificare se sono affetti da covid o meno. Ovviamente tutto il personale? Ovviamente tutto il personale è stato tamponato o qualcuno ha ricevuto le due dosi di vaccino, però ovviamente abbiamo creato una bolla dove tutti quanti non dovrebbero avere il covid. Non si può ancora ballare? No, questa è una grossa pecca, purtroppo il governo ha vietato di ballare, sono 18 mesi però che questo settore è completamente vilipeso. Io credo che i nostri governanti non hanno capito quanto è importante per questo settore ripartire. Ci sono centinaia di famiglie sull'astrico e gli stori che hanno promesso sono veramente poca cosa. Credo che non è responsabilità delle discoteche, soprattutto se fatte in questo modo, farci colare il virus. Ed è arrivato anche il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppe Antonio. Ho ascoltato e sono venuto a verificare perché credo che sia giusto farlo, perché Fossacesia è un modello come abbiamo concordato recentemente con il questore, una città aperta a tutti, anche alla movita di sera, la mattina alle famiglie, ma nella sicurezza massima. La sicurezza è fondamentale per tutti, soprattutto per una località turistica che è decollata e che quindi deve fare un viaggio sicuro, tranquillo, sereno e soprattutto in un mare blu. Ma sentiamo il parere di qualche cliente, lei si è appena sottoposta a tampone? Sì, sì, certo. Ed è un'ottima iniziativa per chi come me ancora non ha il vaccino completo. E quindi, insomma, si sente più tutelata? Sicuramente, sì, ci permette di stare più spensieratezza.